ecco è uscito un perc, il perc inutile, perc inutile, perc inutile, perc inutile, perc inutile, siccome lo vedo un po troppo luminoso oh buono, buono spacca punch vuoi notare la mimetica, che stupenda, si, forma e formaggio ecco, c'è il coso, c'è la bomba, peccato che non la posso prendere, c'è il zombie a naval camminare nel vuoto, benissimo, come tutti gli altri zombie ma tutti, tutti, camminare nel vuoto ma loro possono, capito? quanto qua sottomila, giusto? ok, sì finiamo il round, tanto non credo di farci no, ok bello profondo qui, eh qua c'è arrivato, dai sì, sì, non manca tantissimo alla fine, cioè il difficile, diciamo, è cioè non lo so neanche io qual è il difficile è superato eh, sì no, il difficile è come, cioè bisogna stare diciamo che tipo uno spara a quelli lontano, uno spara a quelli che nascono qui sì, sì, sì l'importante è che uno non spara gli stessi zombie che spara quell'altro, perché se no munizioni, prendo, eh munizioni, sì, puoi prenderla bibita bibita double tap eh, mi sa che l'abbiamo no, ce ne mancano c'è ancora il mio kick, mi sembra, o voglio sì, c'è il mio kick eh no, non mi ricordo che ci fosse in questa mappa no, forse no eh, non mi ricordo neanche io io sono a 10.000 ok vediamo se arrivo io a 8.000, apro questa io eh, io apro quella da 10 esatto poi ce n'è una da 4, quello di mezzo, eh mi sembra ok ok, quindi aspettiamo un'altra allora io faccio, io arrivo a 14.000 così io apro quella da 4, te apri quella da 8 e poi io apro quella da 10 così siamo a posto lasciamo uno zombie ok ok capito, così è meglio facciamo tutta una colpa ma almeno mi sembra che ce ne sono 3, vero? non più di 3, però perché io non mi ricordo molto no, no forse proprio 2 no, no, no questa è un'altra non è da 4, mi sembra che c'è mi sembra perché è quella dove c'è poco spazio qui va bene, io ci sono, eh io posso stare anche così paracolo sì, c'è qualche zona se voi invertiamo le posizioni io sto qui, ti stai un po' più sporgiti un po' magari non so così riesci a colpire anche lui non vorrei cadere no, no, va bene allora ci penso lasciamo uno zopo infatti ho 70 c'è lo zopo c'è lo zopo da un po' troppo vicino ok ok possiamo andare possiamo andare tanto il rondo è finito sì, credo proprio di sì quindi double tap una gamba sì dove è? ecco qui vai ok, allora vai ora cerchiamo di fare tutto eccola qui la sapevo che c'era la porta 4000 era qui ok vieni qui, vieni qui no, niente eh, mi sembra che è quello dopo ci deve essere sì, c'è la testa di Iron Man sì eccolo qui sì, è qua dentro dov'è? eccola qui testa di Iron Man ora forse come avete intuito abbiamo tutti i pezzi di Iron Man e qui c'è diciamo il pezzo finale dove appunto ci sono tutte le armature tutte cinque le armature di Iron Man di cui una mi sembra che non è disponibile ancora però aggiungiamo tutti i pezzi e praticamente il gioco è fatto serenamente siamo riusciti alla prima volta è incredibile sarà l'esperienza perché se no non è possibile ovviamente qui vanno pagate le armature e quella meno costosa costa 5000 crediti 7500 10.000 e poi 15.000 e lì c'è anche il coltice l'MP40 no? non ce l'ha nessuno l'MP40 no e ora diciamo però se non sbaglio ci può comprare ecco eccolo vabbè ma tanto servo a poco perché io vabbè oddio cioè tutte le armi potenziate se esce un cosa se esce un se esce un munizione al massimo forse è meglio comunque sto notando che già siamo a 20 minuti di registrazione insomma abbiamo fatto anche abbastanza veloce e ci sta anche che divido questo video in due parti probabile forse questa è già la seconda parte ora guarderò insomma e ora siamo attenti qui a girare perché eh giriamo ok paga punch eh aspetta prendi 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 l'MP40 vai no mi hanno bloccato mi hanno bloccato mi hanno bloccato mi hanno c'è lo zombie sono rosso sono rosso prendi il paga punch si 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 vai ok bomba vai da notare che lo zombie muore con la bomba corre corre e poi muore e sta correndo è morto con la bomba no già che è morto no non è morto con la bomba ok 2000 punti extra con il coso cheese brother stavo morendo io tipo 3-4 manate 10.000 punti io potrei comprare anche l'armatura volendo facciamo vedere un po' com'è aprendo puoi fare il trivia games ok prendo l'armatura scimmia com'è che si attivava l'armatura devo fare il trivia games prima non mi ricordo più un attimo si dice che è pronto il gioco quindi prende questo qui sarebbe un giochetto che cosa serve ti ricordi ti ricordi le soluzioni attenzione se me l'allontani forse ci posso riuscire ok ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto vabbè era di avengers oh attento aspetta volevo fare vedere anch'io com'è questo giochetto oh mani perk e questa era questa abbiamo provato tutte e quattro questo me lo ricordo però mi sembra che era 14 no mai non era 14 no perché è che è c'è un attimo lo zombie si 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 lo faccio lo faccio lo faccio proviamo oh per un attimo sembrava che era morto hai provato tu 14 14 no perché devi aspettare che si ricarica ah neanche io posso eh vabbè vuoi portarli sopra a vedere ok qui stavo facendo no sto guardando mi sto mettendo l'armatura si ce l'hai si ce l'ho ce l'ho ah 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 sono iron man però è una figata eh devo dire guardate guardate roba tutto l'add è tutto cambiato l'hud cioè sarebbe tutte queste scritte mamma mia assurdo che per essere volato è tanta roba come l'hanno fatta io lo posso anche uccidere tanto comunque ok io sto sopra a vedere si che c'è ora ci voglio sparare qualcosa a clementine gli sparo col razzo dove eccola lì oddio tutto rosso ammazza ok vediamo intanto il petrolio a che livello è è ancora un po' di pezzi io l'ammazzo eh ok vai ok ho fatto risposta corretta perfetto no niente ok ok però peccato che non si vedano tipo le scritte c'è scritto sopra gli umeni quelle cose lì mmm invece da stare attenti qui perché si abbassa il livello di cose qui casino ah quello dell'infinità e questo qui il perk inutile ora diventa una cosa assurda che quando c'è questo perk voi ci avete tipo il power illimitato e quindi potete sparare volare tutte cose praticamente infinite sparare razze infinite cose infinite tutto infinito ok ok ora è finito eh song no non l'attivare non l'attivare no tu l'hai attivata ah io l'ho attivata ah oddio io sono sopra beh io non la sento però no perché poi ci sono problemi col copiletto ovviamente si appunto è bello perché Ironman può lanciare anche le granate no sono finisi oddio critical passo un attimo che faccio uno zoppo ma io mi sono levato l'armatura tanto non mi serve più e munizioni prendi prendi vai a posto qui abbiamo finito il quiz quindi no l'ultima risposta aspetta attento faccio uno zoppo ok allora quindi questa non me la ricordo oddio attento attento io il provo ecco non è Tavano 23 no Tavano 23 l'ho già provato io ah oddio io ho comprato un Ironman che ho preso quello da 75 è buono eccolo questo da Ironman guardalo bellissimo un attimo ok sotto c'è tipo la scossa elettrica va bene intanto ammazziamo lo zombie dai io mi faccio una cassa un po' di armi esco oh ppsh eh yes eh sì è tanta roba questo questo ppsh oddio quanti ce n'è vabbè tanto lui vola via cosa si la prende anche oddio c'è ma ha bloccato lo zombie corri via attento dietro ok io devo no attento che ci sono botte di zombie no ti fai danno quando spari oddio dove sei? ah ok dovremmo girare sincronizzato no stavo ho citato una scimmietta fatti bene sono a terra? no e già ho finito i gol che andava alla fianco ok no oddio ma la musichetta è infinita questa che ha attivato fischi